arianna però non è più in chat bravo facessero tutti come fatto te mondo sarebbe molto più bello le macchine volano bellissimo allora io tipo sono una che odia poi film italiani perché ammetto li trovo un po cringe se non sono fatti bene o se non sono recitati bene non so se avete presente il livello di cui parto è recitato male italiani intendo doppiato mai sono se qua gringia quella serie ma meri solo te quella serie raga potrebbe sembrare così quindi potrebbe sembrare cringe perché dici oddio questi sono giovani ragazzi che recitano in italiano se un fenomeno sei c'è la miseria invece devo dire sta a casa in che senso i cine pane bravo esatto invece questa serie guardate che sono tutti ragazzi sconosciuti nel senso non credo voi conosciate qualche attore perché non tutti secondo me attori emergenti ma ragazzi sono bravi poi essendo recitato in napoletano non lo so è diverso capito è una cosa proprio vera giusto giuseppe buongiorno io la consiglio ci sto marvo a me le push l'ho inventato io verace bravissima 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 verace solo se ti va ragazzi non c'è lo shopper ragazzi ragazzi non c'è lo shopper ragazzi in open oddio ok ok Prendetegli un acquato. Cassa di scorte marcata. Prendetela. Ciao, soldato nemico. Uapitevi in coattivo. Non si spaventa, o sto ticchio. Faitate, faitate. Cecchinalo. Così, però, no. Ci sto morto, ci sto morto. Oh, vedevi in coattivo. Eccoti. Bastardo. Ragazzo. Stai arrivando un nemico. Attenzione in alto. Lui ritenta. Eh dai. Lassi il movimento. Uapi il nemico attivo. Ma vabbè. Io vabbò. Scocca l'ora della vendetta. Stai arrivando un nemico. Attenzione in alto. Ok. Uapi il nemico attivo. 25 rimasti. Stai andato bene. Uapi il nemico attivo. Alla nuova zona sicura. Gas in arrivo. Contratto accettato. C'è un mercato nero nei dintorni. Trovatelo. Saldi. Prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati. Uapi il nemico attivo. Da vista. Ui. Nemico in arrivo nell'area. E' un'ora per finire. Testa ben piattata. Era mio. Era mio. Uapi il nemico attivo. Gilda. Buongiorno. Scusami. Stamattina fa freddissimo. Ragazzi. Ci sono 16 gradi qua. Da paura. Grazie Gilda. Valca poco. Trovate il punto d'accesso. Nemico in arrivo nell'area. No. Vado a cotto. Nato la chi di quello? Dai. brutta raga credo di ok cisto marfor ciao maria buongiorno cisto marfor cisto marfor avrei un sacco ascoltarla adesso non posso volevo andare anche rotto ma se vedo tutto nero ok Liga. quando poverino poverino ciao salvatore buongiorno ciao miguel nemico in arrivo nel area c'è mai lo shop qui lo sapevo che mi scende dai no way oddio oddio no non mi ha visto no way no dai no picasso mi ha ucciso giulio grazie per la condivisione buongiorno come tornare in campo stavolta non sbaglio sta arrivando un nemico attenzione in alto contratto iniziato all'opera c'è un mercato l'euro è di intorno provatelo avevo tanti di quei soldi ragazzi lancio di equipaggiamento e vabbè cacso di avvicinamento nuova zona sicura salutando così raga perché rega guardate scontro tra macchine ah ma sono sotto non sono qui perché voglio vedere se trovo amplificato se trovo amplificato top ogni volta arrivo 15.000 devo morire contatto nemico restate in 35 tieni gli occhi aperti contatto fallito sarà per l'amore un team nemico ti sta a bracca e il gas vi è quasi a toso dai sto passando la partita a lutare d'accordo Ehm... Ehm... Vabbè, oh... Mamma mia, che palle sto Riddick. Ma davvero? Ma dai. Scusa. Scusa. Ecco. Scusa. 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 Musica. Il nemico attivo! Ricordo non più disponibile! Fatti valere! Arriva il gas! Marco la nuova zona sicura! Attacco a grappolo nemico al riparo! Ciao vigione! Grazie! Grazie mille! Note questo con cosa gioca? Qualcuno prenda questo lanciatore! Ultimi dieci! Non devi mollare! Fai il gas via! Qua ti ha dato! Sì! 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 Il gas via quasi addosso! Sì! 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 Aereo autorizzato! Cassi in arrivo! C'è una nuova zona sicura! Qui in finestre! Attacco incontro! Cassi in arrivo! Bombardamento fallito! Poi! Ci serve una ricognizione! Ah sono io contro questo! E' lui raga lo sapevo! Porco Dio! Ravamente raga! Guardate quanta vita aveva Perché? 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 Mi fa scrivere questo gioco Ragazzi No Avete visto la vita che aveva? Basta sono arrabbiato Sono arrabbiatissima No, no No, sono arrabbiatissima No No Ciao Loretta No Sono molto arrabbiata Vabbè Mi fa mandare al cielo? No Andiamo a town Non ce ne andiamo mai Ah mamma mia raga Mi fa male ogni muscolo Del mio corpo Non ti preoccupare Marco Anche io non sono molto presente Perché Ho preso la casa Mi hanno dato le chiavi ieri Quindi Ieri Non ci sono stata per nulla E Oggi vabbè Sto facendo la mattina Ma Oggi pomeriggio Torno di là Grazie Franci Oggi pomeriggio Torno di là Perché io ho comprato Un paio di cose Volevo portarle Oddio Non guardavo là Non stavo guardando Raga Oddio che bot Ah che bello Grazie Raffaele Quindi parli italiano? Oh Oh Felici di averti qui Non mi veda un'arma bella Ciao Alessio Ovviamente Vabbè Altri due soldi Vabbè Lo sapevo Dai pure da dietro lo facevo No no affitto affitto Alessio Ciao Massi Occhio per occhio Mela buongiorno Beh me ne vado qua Capito I mercenari usano un oligoctero di fornimento per depositare il denaro e vendere un acqua Versaio identificato Buon divertimento A vera Buon divertimento Buon divertimento Buon divertimento Buon divertimento Vabbè oh Ma che ne è Buon divertimento 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 No! Restati, restati! Easy. Oh, Miki! Non ti avevo riconosciuto perché hai l'immagine del profilo nuova. Beh, effettivamente è troppo schifo. Oh, Dio! Ho avuto paura. Ok, no, no, no. Qualcuno lo ha visto? Ah, ok. Mimetizzato completamente. La sua arma non rincula. Immobile. Ok. No, vabbè, eh, no, eh. Non va bene tutto, ma... No. No. Ma porca troia. Eh, Michelino! Ciao, Fabienne! C'è un soldato nemico! Fabi nemico attivo! Guardalo lui! Lathorn! Non ha altri posti dove andare. Quello è il suo posto. Ha deciso. Ancora! Che batte! Vabbè. Casse in avvicinamento. Nuova zona sicura. Non scappare con il denaro. Fermateli! Vabbè. Minchia. Luigi Sì Sì Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No way. No way. No way. Oh. No way. 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 Alessio, mi fai emozionare. Alessio, io ho assistito, tra tante virgolette ovviamente, alla nascita di tua figlia e tu hai assistito alla mia crescita professionale e personale, cambiando casa. Siamo pari. Ah, it's the sunshine. Está arrivando un nemico. Accusione in alto. It's the sunshine. Grazie, Alessio. Dai, raga, mi fai emozionare poi. Uh, buoni Fabienne. Dai. Comunque dicevo, raga, faccio l'ultima perché devo sistemare un po' casa, questa qui. Oh, grazie, Dioninson. Buonasera, buon dia. Hola. Good morning. Buongiorno. E devo sistemare un po' casa qua. E poi preparare un po' di cose che oggi torno di là. Voi non avete idea quanto vorrei portarmi la postazione, madonna. Però, devo aspettare Edo per forza, raga. Oddio. Maddana. Sono fortissima, ma tu? Non lo sai? Ah. Ti chiedo ricognizione dell'area. UAB in sul volo. Guardalo con le armi. Autonomia UAB esaurita. UAB in sul volo. UAB in sul volo. UAB in sul volo. UAB in sul volo. Fa il fenomeno, vuole fa. Buongiorno, Arthur. Come sta? Lo sapevo. Questo qua c'ha le armi che ho raccolto dal tizio. 36 colpi. Che ci devo fa'? Non è ancora finita. Vulva. Ehi, 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 ehi. UAB in nel mio coattivo. 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 è finita qui la mia avventura in questa lobby aiuto e invece no dove puscio eccolo un culo vai no vabbè questo mi ha pusciato qui non succederà più raggio di equipaggiamento in arrivo gas in avvicinamento nuova zona sicura abbiamo un altro eroe in scuola e noi cercano di scappare con il denaro fermateli ci ha soldato un emico mi serve una ricognizione qui servono prendate il 25 tieni gli occhi a pelli ah che bello alessio un abbraccio anche a te grazie grazie madonna mia grazie che infamata su che cazzo Ci serve una ricognizione qui! UAV insolvolo! Ah, sei sopra o sei sotto? UAV nemico attivo! Autonomia UAV esaurita, rientro alla base! Tommasi! Bava! Neve! Bava! Bava! Caraca! Novi! Ecco ! Tommasi! Valla! Sali, resti delle stazioni di acquisto ritoccati. Tu appena mi... No. Oh mio Dio. Cassa di scorte identificata. Marco la posizione. Il gas vi raggiungo! Eskinci, buongiorno! No. Ritorno non più disponibile. Fatti valere. Il gas si avvicina. Nuova zona sicura per voi. Sei tra gli ultimi dieci. Bene. Oh, eh. Oh, eh. Grazie a tutti. 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 No. 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 Mi pinga. No. 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 E dai Oh dio Oddio Raga What? No, devo assolutamente clippare tutta questa cosa Che cazzo ho fatto? Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Cassa di scorte in campo Prelevare Uabinemico attivo Uabinemico attivo E dai dammi un millino Grazie Madonna Uabinemico attivo Uabinemico attivo C'è un soldato nemico Forza Sei ancora in vano Uabinemico attivo Dai soldi L'equipaggiamento in arrivo Nemico in arrivo nell'area E il gas si avvicina Nuova zona sicura Uabinemico attivo No 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 Oh, no. Salvi terminati. Prezzi tornati alla normalità. Bombardamento di imprecisione. Va arrivando il nemico. Bombardamento di imprecisione nemico. Assigno arrivo. Vaffanculo. Bombardamento di imprecisione nemico. Ah, porca troia. Ciao, Andre. Oh, no, 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 no. No, 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 no è un tasmo il gas vi è quasi addosso nemico in arrivo nell'area grazie lo fate 16 ma 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 su strunz anche lui 16 kill GG grazie mille bene posso andarmene felice in bellezza chiudo grazie mille